Revenge porn, molesti social, lotta al cyberterrorismo, casi in aumento in un 2023 ricco di interventi per la polizia postale, tante le iniziative per combattere la pedopornografia online piuttosto che il financial cybercrime. Agricoltura in Piemonte trasfide opportunità, grande convegno a Saluzzo, l'affollato appuntamento al Monastero della Stella, evento promosso dal consigliere regionale Paolo De Marchi su bandi PSR 2023-2027, fondi ISMEA, PNRR, agrivoltaico agrisolare, biogas e biometano. Beneva Genna, molto ben riuscita l'edizione 2024 della Fiera della Beata Paola, tantissimi partecipanti all'esordio della nuova proloco che ha provveduto a cene e pranzi sociali in collaborazione con commercianti e artigiani. Clou, il miracolo delle rose. A Cavallar Maggiore, in piazza, antica tradizione di Sant'Antonio Abate con la benedizione degli animali e dei calendari contadini. Il ballo, disciplina che diverte e fa bene la salute, una domenica tra danze e pranzo con Giuliano Ibaroni al complesso Le Cupole. I principali fatti da Langheroero con la Gazzetta d'Alba in edicola. Una buona settimana, un saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del TG4 dedicato ai principali fatti ed eventi dal territorio. Apriamo con la cronaca. Revenge, porn, molesti e social, lotta al cyberterrorismo, casi in aumento in un 2023 ricco di interventi per la Polizia Postale di Torino. Tante le iniziative in particolare per combattere la pedopornografia online piuttosto che il financial cybercrime. Sentiamo. Il 2023 ha visto la Polizia Postale delle comunicazioni porre in campo mirata attività volte a fronteggiare i complessi scenari legati ai crimini informatici. In particolare, l'impegno della specialità è stato costantemente indirizzato negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, alla protezione delle infrastrutture critiche e sensibili, al financial cybercrime e a quelle relative alle minacce terroristiche riconducibili a forme di fondamentalismo religioso o di estremismo politico-ideologico anche in contesti internazionali. In uno scenario nel quale la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro Vivere Quotidiano, lo sforzo della Polizia Postale delle comunicazioni nell'anno 2023 è stato costantemente indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica in generale, con particolare riferimento ai reati in danno ai minori, con il costante coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online di Roma, punto di riferimento nazionale nella lotta alla pedofilia e pornografia minorile online. A livello regionale non sembra ridursi il rischio per bambini e preadolescenti di diventare oggetto di attenzioni sessuali da parte di adulti, mentre giocano online o guardano i loro video preferiti sulle piattaforme social. Le denunce relative ai casi di adescamento online, infatti, unite alla trattazione di fascicoli per attività d'iniziativa del Centro Operativo e Sezioni Provinciali, raccontano di un numero di casi in aumento che coinvolgono anche vittime sotto i 13 anni. Nei casi di adescamento, quando l'aggressione è rivolta ai minori di quest'età, di fatto essa coinvolge bambini in tenera e in età preadolescenziale che non dovrebbero avere accesso ai social e che dovrebbero essere puntualmente sorvegliati dei genitori proprio perché particolarmente fragili per la tenera età. Andiamo avanti con la cronaca. Gli agenti della DIA hanno eseguito a Volpiano e Chivasso, nel Torinese, il decreto di confisca di beni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino nei confronti di due imprenditori pregiudicati, fratelli di 58 e 61 anni già condannati nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione Platinum DIA. Secondo l'accusa, i due imprenditori sono affiliati alla locale Andrangheta di Volpiano. Il sequestro ha interessato otto aziende, quote societarie di un'impresa di ristorazione, 14 immobili, 6 auto e 19 rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Rimaniamo nel Torinese. È stato arrestato l'automobilista che ieri ha investito e ucciso il 47enne Giuseppe Grippaldi, allontanandosi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Si tratta di un uomo di 56 anni residente a Caselle. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Borgaro Torinese. L'investitore alla guida di una Fiat Panda ha colpito Grippaldi che era in bici ed è fuggito. Sono stati dei passanti a vedere l'uomo a terra e a chiamare i soccorsi che tuttavia non hanno potuto salvare la vita della vittima. Cambiamo argomento. Veniamo alla saluzzese. Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità. Un convegno a Saluzzo. Affollato appuntamento al Monastero della Stella. Evento promosso dal consigliere regionale Paolo De Marchi sui bandi PSR 2023-2027, fondi ISMEA, PNRR, agrivoltaico e agrisolare, biogas e biometano. Vediamo com'è andata. Il pubblico delle grandi occasioni stipate in ogni angolo per il convegno. Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità a Saluzzo nel Monastero della Stella in Piazzetta Trinità. A organizzare l'evento il consigliere regionale del Piemonte Paolo De Marchi. Tanti temi affrontati. Bandi PSR 2023-2027, fondi ISMEA, PNRR, agrivoltaico e agrisolare, biogas e biometano. De Marchi ha organizzato un convegno dedicato all'agricoltura del presente ma soprattutto del futuro. Un settore è quello primario che ha bisogno di opportunità specifiche che vanno anche colte, quindi con una preparazione di carattere generale per saper cogliere i bandi, le proposte, gli aiuti che vengono dati all'agricoltura. Sì esatto, ho voluto organizzare questo convegno, questa iniziativa per dare una panoramica a 360 gradi di quelle che sono le opportunità e le sfide che sono adesso nel presente ma anche che ci attendono nel futuro prossimo qui in Piemonte. Siamo qui in provincia di Cuneo dove è una provincia dove il PIL dell'agricoltura supera il 50%, quindi ha un aspetto economico che è fondamentale e attraverso i bandi regionali del nuovo PSR, attraverso anche le energie rinnovabili, siano esse fotovoltaico oppure biogas e biometano e attraverso anche l'opportunità di accesso al credito di ISMEA si cerca di dare quella che è una panoramica generale di quelle che sono le opportunità per le aziende agricole e non solo. Bargesio, l'agricoltura è soprattutto sfide oltre che opportunità, l'importante è saperle cogliere ed essere preparati appunto a un settore primario che guarda il futuro, che guarda il nuovo millennio. Sì io credo che questo sia particolarmente importante, oggi noi siamo qui perché diciamo che c'è una informativa tecnica molto molto importante, ISMEA soprattutto nel campo, quale istituto che eroga servizi e naturalmente anche finanziamenti al settore agricolo, la regione Piemonte con i suoi bandi che interpreta il volere dell'Unione Europea e del Ministero dell'Agricoltura e naturalmente il governo italiano, dall'altra parte l'aiuto e sostegno a un settore che ha realmente bisogno. Guardate noi siamo in corso con due provvedimenti importanti, il primo è l'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio perché le inoltre 740.000 imprese agricole che sono basate sull'attività delle famiglie imprenditoriali siano sostenute, aiutate ma gli sia dato il giusto ruolo a livello nazionale e poi anche soprattutto con un altro disegno di legge che in fase di approvazione in Senato ha già approvato alla Camera per l'aiuto ai giovani agricoltori, coloro che si insediano donne e uomini dai 18 ai 40 anni e questo diventa fondamentale per il futuro del nostro Paese. Onorevole Gancia, è stata molto chiara nel suo intervento qui al Convenio Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità, l'agricoltura la prima sfida che ha da affrontare è quella di modernizzarsi, non si può più guardare indietro, fare battaglie retrograde. Assolutamente, oggi è un bellissimo momento di incontro perché ci si ritrova con gli operatori dell'agricoltura che sono i veri guardiani dei nostri territori e con tutti i tecnici che lavorano e anche la parte politica. Devo dire assolutamente che è fondamentale stare insieme, ragionare insieme perché le sfide che ci attendono sono veramente molto profonde perché il cambiamento è profondo. Abbiamo tantissime problematiche da risolvere ma tantissime opportunità. quello che è fondamentale è di non non dobbiamo fare battaglie di retroguardia ma dobbiamo essere uniti nel guardare con ottimismo al futuro e anzi essere i primi a cogliere l'opportunità che ci dà questo momento storico. L'autostrada a Torino a Osta non chiude nel tratto Scarmagno-Ivrea e questo risultato del vertice di questa mattina in prefettura a Torino convocato dopo l'annuncio di Attiva. A darne notizia il presidente della regione e l'assessore ai trasporti Gabusi. Abbiamo chiesto a gran voce ottenuto che il vertice in prefettura si chiudesse con una soluzione e questa soluzione è arrivata dicono della regione. Abbiamo chiesto che non si entrasse nel merito della vicenda amministrativa tra la società concessionaria e il ministero che verrà approfondita nelle sedi adeguate. E ora le manifestazioni popolari. Una delle prime nel cunese Benevagenna molto ben riuscita l'edizione 2024 della Fiera della Beata Paola. Tantissimi partecipanti all'esordio anche dal nuovo Proloco che ha provveduto a cena e pranzi in collaborazione con commercianti e artigiani. Vediamo il servizio. Tempo solleggiato ma gelido hanno sancito il successo per il tradizionale appuntamento con la fiera commerciale agricola e artigianale della Beata Paola che ha animato Benevagenna con un ricco programma. Domenica la giornata dedicata alla fiera commerciale, agricola, artigianale e il mercato dei prodotti biologici. Poi tanti altri appuntamenti, l'intrattenimento musicale per le vie del paese con musica popolare. Nel pomeriggio i momenti clou del centro storico, la sfilata del corteo in costume per le vie della città. Presso il fossato del castello la rievocazione storica dei momenti salienti della vita della Beata Paola tra cui il famoso miracolo delle rose, balletti d'epoca del gruppo coreografico Santa Chiara. Molti altri appuntamenti presso il fossato tra cui un grande spettacolo di falconeria. In collaborazione con la nuova, la new entry, il nuovo prologo di Benevagenna abbiamo ottenuto un ottimo risultato oggi, bene anche il tempo che ha aiutato in tutto e per tutto. E ringraziamo tutti quanti hanno collaborato a questa manifestazione, compreso Telecupola che da anni ci segue in modo stupendo. grazie Piero, grazie a tutti e al prossimo anno. Grazie Presidente. Claudio Ambrogio quest'oggi con il vice sindaco, non soltanto perché nel corso della trasmissione che abbiamo registrato tu hai ringraziato veramente, hai fatto un elenco lunghissimo di collaboratori, di quelli che hanno sostenuto la manifestazione. Vuoi farne una sintesi? Sicuramente voglio partire da tutti i volontari, dalla protezione civile in primis, dai dipendenti comunali, dalla prologo di Benevagenna, da quella di Cervere che c'era ieri sera, dalle forze dell'ordine, tutti coloro che hanno dato un grandissimo contributo perché questa manifestazione oggi avesse questo successo e il successo è stato evidente. Quindi quando un successo è così acclarato il merito è sempre di tutta la squadra e quindi io voglio ringraziare tutta l'amministrazione, tutti i dipendenti, tutti i volontari perché oggi si è stata una giornata fantastica, il merito è di tutti. Tantissimo pubblico, c'è stato qualcosa di nuovo quest'anno? Al di là della prologo, all'uomo a prologo? Beh, quest'anno di nuovo c'è stato un incremento all'interno del corteo per chi l'ha visto, chi lo vedrà appunto quando andrà in onda e sicuramente tutti gli anni vengono fatte delle cose particolari e nuove per dare un impulso maggiore all'interesse di tutta la manifestazione. E intanto guarda, ho visto passare la vicepresidente, vieni Ivana, anche la cuoca, abbiamo mangiato magnificamente, hai ricevuto tantissimi consensi per la tua cucina, era la prima volta? Sì, per la fiera della Beata Paola sì, è la prima volta, non è la prima volta per altri eventi perché in quest'anno ne ho già fatti altri che sono sempre andati molto bene, quindi sono contenta. Qui accanto a te due... Ho avuto i miei collaboratori che sono stati veramente il nostro braccio destro. Allora, caro sindaco, arrivederci per la prossima edizione allora. Sicuramente un saluto va anche a Giacomo Aime che è il presidente della consulta e della Proloco, adesso è impegnato in un'altra iniziativa, non ce l'abbiamo qui ma grazie a lui possiamo dire anche il grande successo di questa manifestazione. E ora il cibo buono, pulito e giusto, protagonista oggi presso l'aula magna della Cavallerizza Reale in Via Verdi a Torino, è stato presentato la stampa, il nuovo centro di studi e ricerca sul cibo sostenibile realizzato da Università di Torino, Politecnico, Università del Piemonte Orientale e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono intervenuti Stefano Geuna, rettore dell'Università, Guido Saracco del Politecnico, Giancarlo Avanzi, rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Bartolomeo Biolatti, rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Cristina Prandi, vice rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie dell'Università di Torino. Per l'occasione è stato lanciato un appello di Carlo Petrini per un nuovo sistema educativo alimentare da sottoscrivere in maniera individuale e collettiva. Intanto è stato anche presentato il programma delle celebrazioni degli 850 anni per i valdesi in movimento presso la città metropolitana di Torino. Presidente, in questi mesi, in questi eventi, si parlerà di concetti importanti come eresia, tolleranza, rispetto delle minoranze, libertà di coscienza. Ecco, la presenza dei valdesi in 850 anni, quanto e come ha segnato le valli pinerolesi? Beh, io direi che non ha segnato soltanto le valli pinerolesi, ma è stato di stimolo la presenza valdese anche prima per il Regno d'Italia, prima ancora per il Ducato di Savoia e poi anche per la nostra Repubblica, perché è comunque una minoranza che si è collocata in questa ricerca dei valori che lei ha citato prima, che non sono valori mai acquisiti, casomai vengono estesi a fasce sempre più ampie della popolazione. Questa è stata una costante in tutti i centenari, per esempio, quello del movimento valdese, ma anche quello che ricorda il rimpatrio dei valdesi dall'esilio svizzero e soprattutto dell'emancipazione del 1848. Sempre viene ricordata questa idea di non solo tolleranza, ma cittadinanza come valore anche per altri, quindi non soltanto ricordato per se stessi e per le nostre comunità, ma anche come servizio, come obiettivo per gli altri. Sindaco, la visita del Presidente Mattarella a Torre Pellice qualche mese fa ha certificato quanto è importante la presenza dei valdesi nelle valli del Pinerolese e quanto è importante per l'identità culturale di queste valli e di tutto il Piemonte. Assolutamente vero, assolutamente sì. Oggi cominciamo i festeggiamenti di questi 850 anni della presenza della Chiesa Valdese nelle nostre valli, una presenza strategica, fondamentale, di identità culturale e di tradizione. Riusciamo, le nostre valli riescono ad avere una visione anche globale, culturalmente meno chiusa, ma con un respiro internazionale, proprio grazie alla presenza della Chiesa Valdese che ci onora e con la quale si riescono a fare cose molto molto interessanti. Il Borgo Medievale di Torino è, dalla sua nascita, una delle maggiori attrazioni turistiche della città della Mole. Ora chiude due anni. Da domenica 31 dicembre 2023, infatti, il Borgo Medievale Torinese ha chiuso per due anni fino all'inizio del 2026 per una riqualificazione finanziata con fondi PNRR che vale 6 milioni di euro e fa parte di Progetto Torino, il suo parco, il suo fiume, Memoria e Futuro. Il cantiere aprirà a fine gennaio per gli esterni, a fine febbraio per gli interni durerà 18 mesi. Sarà influenzato dai lavori al Parco del Valentino, dalla costruzione della biblioteca a Torino Esposizioni e dal rinnovo del Teatro Nuovo. Torniamo nel Cunese a Cavallar Maggiore in piazza antica tradizione di Sant'Antonio Abate con la benedizione degli animali e dei calendari contadini. Sentito appuntamento domenica 21 gennaio al termine della Messa Grande nella parrocchia di San Michele a Cavallar Maggiore con la benedizione dei calendari di Sant'Antonio Abate e soprattutto degli animali domestici che sono stati portati in piazza dalla confraternita di San Rocco con benedizione in piazza aperta al pubblico. Un momento di ritrovo per la cittadinanza, un momento religioso molto vissuto all'inizio dell'anno, specialmente nei mesi freddi, che sancisce come Sant'Antonio Abate sia ancora molto celebrato in tutte le campagne e in tutte le città che fanno parte della pianura cunese. Sentiamo un momento di questa intensa celebrazione col parroco Don Giuseppe Brunato. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dio ha creato l'uomo e lo ha posto sulla terra perché esercitando il suo dominio su tutti gli animali, celebri la gioia del suo Creatore. Uniamoci anche noi nella benedizione, invocando la sua providenza per tutte le creature che ha messo alla nostra attenzione. Sì, benedetto Signore, che nell'Agliello Pasquale ci hai dato l'immagine del tuo Figlio, nel quale possiamo chiamarci ed essere i tuoi figli. Sì, benedetto Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni compagnia e sollievo. Sì, benedetto Signore, per tutte le creature che ci invitano a cantare la tua note. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua providenza e in queste macchine e trattori un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessioni di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discendano su queste creature che rimangono sempre. Adelissavo anche i trattori. Dove erano il suicidio? E' il senso dei secoli, dei secoli. Adelino. E ora un salto in Liguria ad Alassio, violenza sulle donne, femminicidio, il fenomeno dedicato al corso di Luciano Garofano e Franco Morizio, all'ex chiesa anglicana di Alassio. Prevenzione, attività tecnico-scientifiche sulla scena del crimine, e l'attività dinamica operativa della Polizia Giudiziaria, alla luce della riforma Cartavia. Tutto questo e molto altro, giovedì 25 gennaio, del corso per addetti ai lavori organizzato dal Comune di Alassio e dalla Polizia Locale. Interviene, portando la propria testimonianza ed esperienza, al generale di brigata Luciano Garofano, già comandante dei RIS di Parma e presidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi. Si è occupato, tra gli altri, anche della strage di Erba, del delitto di Novi Ligure, del caso Cogne e del delitto di Garlasco, che hanno ispirato la serie televisiva RIS. Torniamo in provincia di Cugno. Il ballo, disciplina che diverte e fa bene alla salute. Una domenica tra danze e pranzo, con Giuliano e i baroni, al complesso le cupole di Cavallar Maggiore. Molti studi lo approvano. Il ballo è considerato un ottimo approccio terapeutico, a svariate patologie, dal sovrappeso all'ipertensione fino alla depressione. Ballare mette in moto le endorfine, sostanze prodotte dal cervello, che hanno lo scopo di alleviare il dolore e di stimolare il buon umore. Ballare riduce anche lo stress. Anche il senso dell'equilibrio viene stimolato e potenziato dalla danza, dato che si migliora il controllo dei movimenti e la coordinazione. Grazie ai movimenti dolci, il ballo non provoca traumi all'articolazione o alla schiena, come può avvenire in attività fisiche più impattanti. Esistono inoltre alcune tipologie di balli, che in particolare vengono utilizzate come balli terapeutici. Il ballo è un ottimo metodo di allenamento cardiorespiratorio, perché ci si approccia alla riabilitazione dopo un problema al cuore, per esempio. Lo si fa più volentieri in un ambiente rilassato e dove si dimentica il suo iniziale problema. Inoltre, ballare fa bene alla linea e poi migliora l'umore. Dopo i 50 anni anche un'arma contro la depressione è una buona occasione per fare nuovi incontri e amicizie, soprattutto quando un momento danzante viene abbinato associato ad un pranzo o una cena. Come ad esempio la Domenica Danzante, organizzata ieri alle cupole di Cavallar Maggiore con l'orchestra di Giuliani Baroni. Un buon pranzo con prodotti tipici della tradizione piemontese e poi la possibilità di ballare ascoltando ottima musica. Andiamo a Novara, l'ora della donna nella chiesa e nel mondo. Questo è l'argomento al centro dell'Omelia che il Vescovo di Novara, Monsignor Brambilla, ha tenuto stamane in basilica durante la solenne messa pontificale della patronale di San Gaudenzio. La funzione è stata preceduta dal corteo che dal municipio ha attraversato una parte del centro storico per arrivare al Tempio Tibagliano. Qui il sindaco ha accolto il Vescovo per compiere un altro momento simbolico che affonda le sue radici nei secoli, quello della cerimonia del fiore attraverso la grande fioriera metallica che dalla volta si è abbassata e rialzata dopo essere stata riempita con i cesti trasportati dai consiglieri comunali. Andiamo nel Varcellese a Borgossesi e i fuochi si accendono prima dell'alba. A Borgossesi è tornato il rito della Busecca. Ieri la distribuzione del piatto e l'arrivo del Peru hanno aperto la manifestazione del carnevale. Sarà festa fino al 14 febbraio. Una ventina di pentoloni messi sul fuoco prima dell'alba che servono per cucinare la Busecca un piatto a base di trippa del carnevale cittadino. La distribuzione di circa 6.000 razioni ha dato il via alla manifestazione con l'arrivo appunto della maschera cittadina Peru-Magunella. E ora i principali argomenti della Gazzetta d'Alba in edicola. I principali fatti che potrete leggere questa settimana su Gazzetta d'Alba dal 1882 settimanale delle Langhe e del Roero. Senza tetto 20 persone dormono in strada. Lo strano caso del modulo per le emergenze con letti e servizi che ad Alba non si riesce a collocare. Fotonotizia centrale. L'antico cimitero emerge dagli scavi della cantina. Nei lavori di ampliamento del complesso Pio-Cesare sotto vecchi uffici sono state trovate ossa del cimitero seicentesco di San Rocco. Ora i resti riposano nel camposanto di Alba. Camera di commercio. Le imprese di Langhe e Roero diventano un modello innovativo. Gola. L'aria incarna un caso di sviluppo integrato del territorio in cui convivono dimensione economica, sociale e culturale. Langhe. Addio i negozi nella Langhe del Barolo. Le storie di Castiglione e dell'annunziata. Roero a Santo Stefano si usa WhatsApp per individuare le discariche di rifiuti abusive. PNRR ad Alba. Scuole infermieri. Ultimata al via Mense e Nido. I tempi stringono. Infanzia. Alba, Bracuneo. Allinano i servizi alla richiesta dell'Unione Europea. L'Italia arranca. Extravergine Sabaudo. La nostra olivicoltura è in ascesa. Con 250.000 olivi su 350 ettari. Il Piemonte punta all'indicazione protetta. Strade cunesi. Meno incidenti ma troppi morti. Parte il progetto di fondazione CRC. Da Abra. In primo piano ambiente. La qualità dell'aria migliore. Tornano anche i lichini. Ma l'utilizzo del suolo sta compiendo passi indietro. Povertà. Anche chi ha uno stipendio talvolta non ce la fa sostenere la sua famiglia. L'allarme della Caritas. Tutto questo su Gazzetta d'Alba che trovate in edicola. Per le fiere e manifestazioni facciamo un salto in Val d'Aosta. Cester, Astrelli e Sabaudo. Oggetti indispensabili nella vita quotidiana di un tempo. Oggi vere e proprie opere d'arte esposte dagli artigiani alla Fiera di Sant'Oso di Donnas. Domenica al borgo della Bassa Valle si è trasformato in una vetrina dell'artigianato valdostano. La piccola fiera, anticipazione della Fiera di Sant'Orso che il 30 e il 31 gennaio popolerà a Osta, è iniziata venerdì con l'apertura delle cantine in occasione della tradizionale veia. E ora uno sguardo ai programmi del lunedì sera. Vediamo che cosa ci propongono per iniziare il meglio questa nuova settimana su Telecupole. Amici del Piemonte, eccoci pronti per andare in onda. Dal mare all'entroterra con Volere Volare. I programmi del lunedì sera propongono su Telecupole alle 20 Volere Volare, informazioni dalla Liguria. Dopo una serie di incontri intercorsi tra l'amministrazione comunale di Valle Crosia e di responsabili dell'Agenzia in Liguria, è stata sottoscritta una lettera di intenti tra il Comune e l'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria. Un lavoro sinergico che ha la finalità di valorizzare le eccellenze e le peculiarità di Valle Crosia e di formulare un'offerta turistica strutturata. Alle 20.10 la voce di Sanremo conduce Cristiano Gatti. La azienda Sesia Global che è la sua sede principale nel Biellese e a Gattinara ma si espande in tutto il Piemonte e anche in Liguria con i loro servizi perché nella puntata di oggi parleremo in particolare dei servizi a domicilio. Alle 21 Un Amore Impossibile Vorrei ricordarle come mi chiamo Le ho già detto di lasciarmi in pace Non sapevo che questa fosse la porta dal paradiso Un ne vai Non ti ho sentito Buongiorno Buongiorno Beh ho fatto piano per non svegliare a tua pace Renzo Sei uscito tutti i giorni in questa settimana Te ne vai la mattina presto Non ti vediamo quasi più Beh che Vado dagli amici a Palermo Tutto qui Alle 22.30 L'informazione interregionale Piemonte-Liguria del nostro TG4 È tutto Si chiude anche questa edizione del nostro TG4 Vi lascio alla vignetta di Gianni Soria Buon proseguimento con i nostri programmi E arrivederci alle prossime edizioni dei nostri notiziari Soprattutto una serena settimana a tutti voi Soprattutto una serena settimana a tutti Soprattutto una serena settimana a tutti